Note danzanti. Siamo ancora con le mani nella stessa posizione di partenza, i due pollici sul Do centrale, e sempre tre note per la destra e tre note per la sinistra. Do, Re, Mi, Do, Si, La. I due pollici stanno insieme e le altre dita hanno ciascuna un tasto, cioè una nota. Anche in questo caso il tempo del brano ci dice di contare fino a 4, e anche in questo caso il primo e il secondo rigo sono perfettamente uguali. Vi suono il primo rigo contando ad altavoce e il secondo rigo contando nella mia mente. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, 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 uno, due